E questa è un'idea che hanno avuto i proprietari di fare una mostra a teche vuote con chiaramente delle slide che possano indicare il perché e il per come di questa situazione. Una mostra a teche vuote in segno di protesta. E' questa l'ultima mostra dei fratelli Festari proprietari del prezioso carteggio vasariano d'anni al centro di una dura contesa dopo lo stop della soprintendenza alla mostra Vasari e Michelangelo che doveva essere inaugurata venerdì 13 ottobre nel palazzo di Fraternita ad Arezzo. Si è stata negata l'autorizzazione al trasporto dei beni da casa Vasari alla Fraternita dei Laici. Stiamo valutando questo provvedimento, probabilmente verrà impugnata davanti al TAR, così come pure stiamo valutando anche altre azioni sia a livello civile sia a livello penale perché in effetti questo stop provoca notevoli danni economici sia in relazione agli sponsor che si sono chiaramente bloccati sia in relazione anche alla mostra a teche. Le carte dell'archivio vasariano dunque non potranno lasciare la propria dimora e non potranno essere così messe in mostra, ufficialmente per il poco tempo trascorso tra la richiesta di autorizzazione e l'inizio della mostra stessa. Questa mostra non è che nasce 10 giorni fa, 15 giorni fa, è stata annunciata un anno fa, anzi un anno e mezzo fa a Palazzo Medici Riccardi, è stata ribadita nel marzo del 2017 dal sindaco, quindi non è una decisione improvvisa e fatta per contrastare il ministero. Quest'ultimo provvedimento arriva dopo quello dello scorso luglio con il quale il Ministero dei Beni Culturali che ha avviato il procedimento di esproprio dell'archivio vasariano. Stiamo aspettando il decreto di pubblica utilità che naturalmente, almeno a quanto dall'ultima riunione, sarà senz'altro impugnato. Intanto il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha annunciato che l'esposizione delle teche vuote non si farà a Palazzo di Fraternita, fugando così ogni dubbio riguardo la sede della protesta. Nonostante il mancato nulla ossa della soprintendenza archivistica della Toscana, prosegue il sindaco, assicuriamo il nostro intendimento e il nostro impegno affinché la mostra sia presto realizzata nei termini più corretti e nei modi più adatti a valorizzarne la straordinaria rilevanza storica e artistica.